Valter Bonacina, si è conclusa la partita valida per il quarto di finale del campionato primavera contro il Torino, Atalanta superata di misura 1-0, quanta amarezza? Tanta, è chiaro perché i ragazzi ci tenevano molto a proseguire questa fase finale perché ci hanno messo tanto per arrivarci e purtroppo è andata male. Abbiamo fatto, penso, un'ottima prestazione, ci è mancato solo il gol perché in fase di finalizzazione abbiamo commesso tanti errori e questo ci ha penalizzato e contro queste squadre è chiaro che non te lo puoi permettere. Anche perché c'è questo rammarico di questa Atalanta che si era qualificata bene, ha fatto un bel campionato, però comunque i ragazzi, come giustamente hai detto anche tu, ci hanno messo tanto, ci hanno messo cuore, diciamo che è mancato quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Sì, fortuna e poi è chiaro che devi un attimino essere un po' cinico, sottoporta, noi questa cosa ce la trasciniamo da un po' di tempo e concediamo, lasciamo troppe occasioni senza realizzare il gol. Poi alla fine è chiaro che in 90 minuti un errore ci sta, sono ragazzi giovani quindi è chiaro che facendo sempre la partita ti esponi a dei rischi come è successo stasera, però sotto l'aspetto dell'impegno, della determinazione, del cuore, del coraggio credo che questi ragazzi siano da elogiare. Un po' di nervosismo a fine partita e poi le lacrime, perché poi abbiamo visto tutti i ragazzi in lacrime. Sì, ci tenevano tantissimo, mi dispiace per quello guarda, perché davvero sono contento della prestazione ma amareggiato e deluso per loro, perché ci tenevamo tantissimo ad andare avanti e giocarci così una partita ancora importante contro una grossa squadra quale la Juve per confrontarci, per vedere a che punto della nostra crescita eravamo, però purtroppo è andata così, facciamo così di necessità virtù e andiamo avanti.